Questo video riguarda i migliori tre passeggini gemellari. Il vincitore della qualità è il BB Twin Passeggino 3 in 1. Direttamente dalla fabbrica. Garanzia e consulenza. Adatto dalla nascita fino a 15 kg, circa 3,5 anni. Sedi e reversibili, possono essere agganciate in entrambe le direzioni. Include due navicelle, due passeggini, due seggiolini per auto gruppo 0, borsa e cestino inferiore e zanzariera. Caratteristiche del seggiolino auto. Omologato secondo ECR 44-04, adatto dalla nascita fino a 10 kg di peso, si fissa al veicolo con le cinture di sicurezza, posizione sul veicolo, contromarcia, imbracatura di sicurezza a 3 punti, completo di adattatore per aggancio al passeggino. Non adatto a due bambini di età diverse. Larghezza totale 78 cm, controlla le porte e l'ascensore prima di acquistare. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il BB Twin Passeggino. Direttamente dalla fabbrica. Garanzia e consulenza. Prodotto secondo le normative europee, in 1-888 e ECR 44-04. Include due culle più due sedie e bolla di pioggia e zanzariera e borsa e cesto inferiore e barre di sicurezza. Larghezza in il sito MAS larghezza 77 cm, il peso complessivo, 21 kg, con pneumatici in ammortizzatori, ruote anteriori piroettanti con possibilità di blocco, chassis in alluminio con acciaio, facile piegato, due culle con funzione di transportines, gli schienali e poggiapiedi regolabili, cubre capazzo, imbracatura di sicurezza a 5 punti, maniglione regolabile, borsa e cestello inferiore, plastica di pioggia che copre tutto il carrello, sistema di frenatura di alta qualità, sedie e manubrio regolabile da 85 a 120 cm dal pavimento, larghezza sia con sedie come lasciandolo 77 cm. Il vincitore del premio è il Kiko Olala. Olala Twin è il passeggino gemellare Kiko leggero, compatto, moderno e accattivante. Facile da guidare, il maniglione unico assicura una guida agile anche con una sola mano. Pesa solo 8 kg e può essere sollevato facilmente, si chiude con una mano e diventa particolarmente compatto una volta chiuso, grazie al maniglione pieghevole. Le sedute completamente reclinabili, i poggiagambe regolabili e le capotte estendibili permettono ai genitori di scegliere la configurazione ideale per ogni bambino. La capottina estendibile mediante zip nascosta assicura la corretta copertura con tutte le condizioni meteo, compresi i raggi solari grazie alla protezione UV barra UPF 50+. Il portaoggetti unificato garantisce un comfort ancora maggiore ai genitori e può essere usato per contenere anche oggetti voluminosi. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.